MotoGP, nuova era Honda. Marini e Mir mostrano i loro obiettivi per il 2024. Cari appassionati benvenuti in questo nuovo video, vi riportiamo le parole dei piloti Honda durante la presentazione della nuova moto. Però prima di andare avanti, vi faccio l'invito ad iscrivervi al nostro canale e a lasciarci un commento facendoci sapere la vostra opinione. Inoltre, se volete rimanere sempre aggiornati, abbiamo anche il canale Telegram, dove troverete il link in descrizione al video. Marini e i colori che segnano il futuro. Nel fervore della presentazione della nuova RC 213V, la Honda traccia i contorni di un nuovo capitolo senza Marc Marquez, ma con una fresca prospettiva e una livrea che porta un'identità rinnovata. Il palcoscenico Madrid, al quartier generale della Repsol, è il luogo dove si delinea il futuro della casa giapponese. E al centro di questa trasformazione c'è Luca Marini, il nuovo volto della Honda MotoGP per la stagione 2024. Affronta il compito titanico di sostituire Marquez con un'ambizione cristallina, portare la Honda in vetta. Marini riconosce il peso dell'eredità che porta sulle spalle, ma rifiuta di vivere nel passato, preferendo guardare avanti. Marc ha scritto pagine indelebili nella storia con Honda, ma io guardo al futuro. Questo è l'inizio di una nuova era. E questa nuova era è evidente anche nella livrea dell'RC 213V. I colori HRC ritornano alla ribalta, mentre il marchio Repsol assume un ruolo più discreto sulle carene. Un cambiamento accolto positivamente da Marini, anche se i colori Repsol rimangono un sogno di infanzia ispirato dal fratello Valentino Rossi. L'obiettivo è chiaro. Tornare a lottare per la vittoria. Marini è consapevole delle sfide che lo attendono, ma affronta la stagione con determinazione e ottimismo. Ha già ottimi risultati con la Ducati, ma ora è tempo di dimostrare il suo valore su una nuova moto. Tra le righe, Marini riconosce a John Meere un ruolo di guida, essendo il più esperto nel team. E insieme puntano a svelare i segreti della Honda per riportarla in vetta. Infine, Marini aggiunge la sua voce al coro di coloro che chiedono un ridimensionamento dell'aerodinamica in MotoGP per riportare la sfida al centro della competizione. In questa nuova eraonda, Marini si prepara a scrivere il suo capitolo nella storia del motociclismo, pronto a superare ogni ostacolo sulla strada verso la vittoria. Prima di continuare con il video e sentire le parole di John Meere, ti ricordo di iscriverti al canale e di lasciarci un tuo commento. John Meere rivela «Il 2024, l'anno decisivo della mia carriera». Nel fervore della presentazione della nuova RC 213V e con Repsol in disparte, l'attenzione si concentra sul futuro della Honda e sul pilota maiorchino John Meere, che si prepara ad affrontare una stagione cruciale nella sua carriera in MotoGP. L'ombra di Mark Markets incombe su Meere mentre eredita la squadra, ma il campione del mondo 2020 vede nel 2024 un'opportunità per risalire la china. «Questo sarà l'anno più importante per me in MotoGP! È tempo di dimostrare la mia competitività!» Le parole di Meere risuonano nel cuore della presentazione della Honda a Madrid. Dopo i test a Sepang, l'entusiasmo è palpabile. «Honda ha lavorato instancabilmente per migliorare la moto e vediamo già dei progressi tangibili. Sono ansioso di tornare in pista a Lusail!» Con Mark Markets ora un ricordo nel retrovisore, Meere abbraccia il suo nuovo compagno di squadra, Luca Marini, proveniente dalla Ducati. Meere vede in Marini non solo un rivale, ma anche un alleato. «Cercherò di tenere testa a Luca! Il nostro è un rapporto di collaborazione. Possiamo imparare molto l'uno dall'altro!» Il 2024 segna anche un nuovo capitolo nella vita di Meere, diventato padre. Questa nuova responsabilità, Glee conferisce una nuova prospettiva e una spinta aggiuntiva per affrontare le sfide in pista. «Essere padre mi dà una motivazione extra! Mi spinge a dare il massimo in pista e nella vita!» Infine, Mir condivide le sue riflessioni sugli sviluppi aerodinamici in MotoGP, riconoscendo i benefici ma anche i rischi di una maggiore standardizzazione. Gli sviluppi aerodinamici sono cruciali, ma dobbiamo trovare un equilibrio. Rendono le moto più facili da guidare, ma possono anche limitare lo spettacolo in pista. Con Mir determinato a ritornare ai vertici e la Honda impegnata a ridefinire la sua identità post-markets, il 2024 si prospetta come un anno pieno di sfide e opportunità per il pilota Maiorchino e il suo team. Bene amici, siamo arrivati alla fine del video. L'invito che vi faccio è quello di condividere questo video, lasciarci un commento ed iscrivervi al nostro canale. Ciao, alla prossima!